amici scusate io un quarto d'ora fa avevo detto che era l'ultimo fungo della giornata mi sono sbagliato è il penultimo questo è della stessa razza dell'altro è un estivalis e sono nati praticamente nello stesso giorno lo si vede aspettate perché non voglio spaccare il fungo prendo la mia buona mazzetta gli do di cavo di sotto no ragazzi c'è un po da scherzare è fatto a un leviamoli da accanto questa ecco fatto ecco diciamo che questo è l'ultimo ma non lo so ora ci provo c'è ancora due o tre pezzettini da fare è che sta calando il buio sta calando la sera anche questo è un estivalis in tonso l'altro ci aveva qualche passata di lumache questo viceversa si vede la strada non la conosceva arrivederci top